ci tenevo a fare un video in auto per emulare il mio amico domenico della dimora di allanon oggi è uscito nelle sale un film che nell'originale suona les olympiades da noi l'hanno intitolato parigi tourisme rondisman così con un titolo un po' inspiegabile perché mescola italiano e francese non potevano lasciare il titolo originale ma non è questo il punto è un film di jacques odiar il cineasta grande cineasta autore tra le altre cose di un profeta e di sulle mie labbra un regista secondo me per cui è vero ciò che hanno sconsideratamente detto alcuni detrattori di paul thomas anderson cioè che forse forse non ha uno stile ben riconoscibile mi spiego meglio uno potrebbe pensare cosa lega quest'ultimo les olympiades a poniamo di pan che era il suo ultimo film pochissimo forse ma non è questo non è nemmeno questo il punto perché poi un regista fa quel cazzo che gli pare volevo semplicemente dire che io poco tempo fa ho parlato su questo canale di adrian tomine questo grandissimo fumettista che mi ha un po rubato il cuore con summer blonde uno dei racconti di summer blonde è adattato in questo les olympiades dove insieme a questo vengono adattati altri due racconti di adrian tomine praticamente il film è una è tratto da dai racconti fumetti di adrian tomine ed è veramente un film meraviglioso meraviglioso uno dei racconti contenuto anche in summer blonde in realtà poi odiare lo come dire è soltanto un punto di partenza per lui ma è veramente un film meraviglioso con la m maiuscola con tutte le lettere maiuscole forse il più bel film di odiare e forse il più bel film che sia possibile vedere quest'anno benché la settimana scorsa è uscito lì corrispizza di anderson appunto che è un altro film pazzesco ma veramente è talmente bello che visto che un canale lo urlo ai 4 20 tra l'altro per scrivere la sceneggiatura è ricorso a due registe due colleghe registe celine chamois e le amisius che hanno firmato entrambe almeno un grande film la chamois è uscita due anni fa con un ritratto della giovane in fiamme bellissimo e le amisius tra l'altro non so se le pronuncio bene ava è un ritratto di adolescente straordinario ma questo desolimpiade da noi parigi troasieme a rondisman è un film che ripeto meraviglioso tre storie che si fondono con naturalezza estrema con una fluidità straordinaria che parlano di sentimenti in modo veramente con una sensibilità ustoria e la chiusa diciamo delle di queste storie che potremmo così rubricare come happy ending non ha nulla di sentimentale veramente un grandissimo film che mi ha lasciato senza parole forse ne scriverò ma per adesso non so che altro dire a parte esprimere il mio entusiasmo e qui mi fermo tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata buona giornata